salve a tutti carissimi e bentornati in questo spazio di riflessione e condivisione miei carissimi sortelli oggi vi propongo sortelli da sorelle e fratelli sortelli sortelli della stessa sorte cioè qual è la nostra sorte la felicità essere felici qualcuno dirà questo è andato fuori di testa perché essere felici in questo periodo ma secondo me se ci lavoriamo anche questo periodo può essere buono perché a livello interiore basta fare una serie di cose e a prescindere da qualunque sia la condizione esterna una nostra centratura una nostra certa una certa pace interiore la possiamo trovare questo non significa essere esteriormente passivi anzi se siamo un po sereni interiormente vediamo in maniera più lucida le follie del mondo esterno e interveniamo in modo più efficace ed efficiente quindi saremo loquaci quando è il momento di dire la verità non avremo paure ci occuperemo in maniera sana di noi stessi delle persone che ci circondano e non in maniera egocentrica che è una forma malata perché ad esempio in questo periodo difficile che ci sarebbero un'infinità di cose da dire cose da non accettare l'egocentrico per paura accetta 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 sperando che gli vada bene in realtà a forza di accettare la le maglie la morsa si stringe sempre di più e per paura alla fine ti trovi come lo struzzo che ha infilato la testa nella sabbia ed è là ben esposto con tutto il resto del corpo quindi la felicità è la nostra sorte vi leggo poche righe dopo vi dico di chi sono il desiderio di felicità stavo dicendo che noi non desideriamo essere felici e questa è già una cosa importante da vedere comprendere tutti tutti pensano di desiderarlo intensamente e forse il desiderio è vero però bisogna vedere cosa reputi felicità questo è il grande problema e quindi il grande problema è che non indaghiamo reagiamo siamo condizionati da un'infinità di stimoli inseriti che non vagliamo e poi ci troviamo a perseguire delle cose che ci offrono alla fine infelicità o felicità momenti come diceva il cantante eccetera quindi capire che non desideriamo la felicità io aggiungerei a questa frase non desideriamo ricercare la vera felicità comprenderci comprendere cosa ci dà felicità vogliamo altre cose infatti lo dice nell'affermazione dopo o meglio noi non vogliamo essere felici incondizionatamente sono pronto a essere felice a condizione che abbia questo e questo e quest'altro di solito diciamo così ma ciò equivale a dire al nostro amico a nostra moglie a persino qui dice al nostro dio a chiunque tu sei la mia felicità se non ho te rifiuto di essere felice perché ha messo anche dio perché la ricerca esterna del sacro del divino è un'ennesima forma di alienazione devi raggiungere qualcosa ma forse quella cosa è prima di ogni tuo pensiero di ogni tuo movimento di ogni tuo desiderio forse è ciò che ti tiene in piedi che ti permette di respirare di pensare quindi forse quel divino è la tua realtà più profonda e vera una scintillina è qui in noi di un solo immenso come abbiamo detto molte altre volte ma se lo cercola fuori nel mondo delle cose o in un'astrazione mentale ecco che il mio dio diverso dal tuo il mio dio diventa dogmatico diventa ideologico e facciamo un sacco di guai in nome di questo dio è davvero importante capire questo meccanismo non riusciamo a immaginare di essere felice a prescindere da tali condizioni è esattamente così cioè dalle condizioni che la nostra mente pensa debbano esserci ciò che devo avere ciò che là fuori deve esserci come struttura sociale come condizione pensate alla solitudine provata in questi mesi per conflitti familiari perché non ci siamo trovati con le idee ecco sei solo e noi non accettiamo quella solitudine perché non vorrei che le cose fossero così eh anch'io non è che abbia gioito molto in questi mesi guardando le cose esterne però ho cercato un po come esercizio offerto da quest'anno piuttosto folle di abbandonarmi anche alla solitudine all'aver perso la comunicazione con alcune persone con le quali non riesco proprio più a parlare di niente allora se ti affidi se ti abbandoni alla tua solitudine magari scopri anche che è qualcosa di estremamente vasto che non ha antagonismi che lì non c'è nessuno che si oppone che resiste comunque non riusciremo a concepire di poter essere felici senza di esse e non riusciamo a concepire di essere felici senza le nostre ideazioni ci è stato insegnato a situare in esse la nostra felicità la fuori e se ci pensate gesù le aveva dette tutte queste cose socrate il buddha tu sei nel mondo ma non del mondo quando è che diventi del mondo cioè appartieni sei ti sei alienato l'alieno è colui che appartiene ad altri l'ho detto tante volte quando questo falso insegnamento entra nel tuo essere e offusca diciamo la luce dell'essere l'insegnamento che dice là fuori sono i raggiungimenti fondamentali va bene raggiungere cose va bene se ce la fai a cambiare casa avere una casa un po più grande ma se lì la tua felicità beh allora per forza tutto diviene estremamente sofferente pensate che alla fine qualunque cosa si raggiunga la si dovrà lasciare le cose là fuori e anche le persone che amiamo ci lasciano perché muoiono perché si stufano perché ci tradiscono ma qualora anche ci andasse bene saremo noi alla fine a lasciare tutto allora forse se entriamo in un'altra dimensione possiamo amare immensamente le cose amare le persone ma non con quel legame di dipendenza non con quell'alienazione cioè di venire noi praticamente possesso delle cose cose tra le cose dunque questa è la prima cosa da fare se vogliamo svegliarci il che equivale a dire se vogliamo amare veramente se vogliamo la libertà la gioia la pace la spiritualità la trascendenza trascendere non è trovare qualcosa che al di là del mondo significa trascendere questo legame di fissazione a singole cose di dipendenza in realtà è trascendere il trascendente è la dimensione che realizzi quando trascendi vai oltre il piccolo ego ignorante dell'essere che per sopravvivere desidera appiccicarsi delle cose alle cose lo trascendi e lì forse si apre uno spazio che potremmo definire vasto libero dove sorge una capacità di amare anche perché è abbastanza intuitivo ami davvero in maniera incondizionata quando non dipendi dalla cosa verso cui provi amore se ne dipendi ogni sua variazione può esercitare una forma di inquietudine nel tuo animo se ne sta andando sta cambiando non è più la stessa è un tuo bisogno e noi spesso confondiamo l'amore con la passione l'amore col bisogno l'amore con la dipendenza ma sono diametralmente opposti questo un po un guai allora in questo caso la spiritualità come la definisce questo quest'uomo è la cosa più pratica di questo mondo cioè spiritualità da percorso di svuotamento di conoscenza di noi stessi questo intende per spiritualità perché alcuni oggi quando sentono parole tipo spiritualità ricerca interiore iniziano a pensare già siamo troppo entrati in un paradigma scientista e non scientifico perché in un certo senso questa scienza è psicologia ultima sta indagando la natura dell'essere e le forme della psiche quando tu ti aggrappi alle cose per ignoranza di te stesso inizia a soffrire per forza ditemi voi se non è una legge assoluta come diceva il buddha aes dammo sanantano questa è la legge eterna ed inesauribile questa legge è più solida della legge di gravità perché adesso siamo anche andati nello spazio la gravità non c'è ma se tu vai nello spazio il fatto che se ti appiccchi alle cose ti aggrappi soffri e non riesci ad amare rimane anche nello spazio la legge rimane sfido chiunque a pensare a qualcosa di più pratico di questa spiritualità per come l'ho definita né pietà né devozione né religione né adorazione ma spiritualità risveglio risveglio dice perché dice né religione io sono certo che se avessimo avuto modo di parlare io e quest'uomo intende non la religione della piramide la religione dei riti svuotati del significato dei dogmi svuotati del della vera luce del dogma il dogma è una parola veramente inquietante perché inteso come cosa che devi ciecamente credere uccide il dubbio la ricerca il dogma inteso come ad esempio un dogma potrebbe essere se ti aggrappi alle cose soffri se ti abbandoni la dipendenza delle cose ti liberi è come una legge un dogma ma lo puoi verificare non è che ci devi credere se credi a questa cosa poi non la osservi non ti svuoti non raggiungi niente ecco che le religioni hanno costruito un'infinità di dogmi che poi non sono nemmeno reali dinamiche psicologiche emotive dello spirito e quindi divengono veramente costruzioni ideologiche funzionali alla piramide e lui qui dice né religione né adorazione adoro cosa mi svuoto completamente faccio sempre più spazio e forse qualcosa affiora vengo come abitato da una luce che sono io ed è infinitamente più di me avevamo detto in un video spero bello facendo la metafora del raggio di luce noi siamo come un raggio del sole però il sole quando va tramontando se il raggio di luce continua ad osservare la pianura le montagne di fronte a sé non va con il sole si converte cioè cambia la direzione vede il buio e dice sto morendo no non sta morendo stai per essere riassorbito in realtà sono le cose del mondo che se ne vanno dalla tua visione della tua percezione ma poiché tu sei aggrappato alle cose del mondo tu muori con le cose del mondo almeno mentalmente questa è maia l'illusione cosmica se invece il raggio di sole si converte cioè mette a fuoco la sorgente da cui giunge non l'esterno sa benissimo che non terminerà mai cambiano i panorami gli orizzonti ma ogni notte è una nuova alba in un nuovo luogo illuminerà un altro luogo è bella questa venuta carina osserva questa andiamo verso la chiusura osservate l'angoscia che regna ovunque osservate la solitudine la paura la confusione il conflitto nel cuore delle persone conflitto interno conflitto esterno mascherina sì no l'abbiamo ben conosciuti soprattutto in quest'anno questi sentimenti queste emozioni e quindi è stato un buon anno per lavorare per chi ha desiderato lavorare immaginate che qualcuno vi dia la possibilità di liberarvi di tutto ciò paure angosce conflitto interno esterno immaginate che qualcuno vi dia la possibilità di fermare quel terribile dispendio di energia di salute di emozioni che deriva da tali conflitti e da tale confusione vi piacerebbe io dico di sì immaginate che qualcuno ci mostri la strada attraverso la quale potremmo giungere ad amarci davvero gli uni gli altri essere in pace essere immersi nell'amore riuscite a pensare a qualcosa di più pratico di tutto ciò e invece c'è gente che ritiene che i grandi affari siano più pratici che la politica sia più pratica che la scienza sia più pratica io dico che la scienza esterna sia più pratica perché questa è scienza ultima la scienza interiore laddove scopri chi realmente sei determina poi finalmente il giusto direzionamento della scienza fuori cosa sviluppo come lo utilizzo mancando la scienza dello spirito della psiche cioè dell'anima la fuori la scienza viene applicata sempre per le peggiori nefandezze perché non c'è la luce interiore non c'è realizzazione di chi siamo realmente cosa veramente ci rende felici quale sarà mai il vantaggio materiale di mandare un uomo sulla luna quando noi non riusciamo a vivere sulla terra tana de mello messaggio per un'aquila che si crede un pollo bene carissimi direi che qui ci possiamo fermare nel mondo ma non dal mondo ci fermiamo qui vi ricordo che il vostro sostegno è fondamentale mi piacerebbe non non ricordarlo più però forse dobbiamo avere un po più di abbonati e so che alcuni magari osservano e dicono beh insomma è a 10.000 iscritti al canale youtube 20.000 su facebook a girerai maserati ecco non entriamo in questo loop perché ci sono tanti iscritti abbonati che danno un sostegno mensile attraverso paypal o attraverso iban sono 27 28 per una media di 5 euro quindi sfatiamo dei miti quest'anno sono stati soprattutto appunto questi 27 28 e coloro che hanno dato un sostegno a una tantum a darmi la possibilità di respirare un po di compensare il tempo che dedico a questo lavoro e quindi vi ringrazio tutti da coloro che hanno donato un euro a coloro che hanno dato molto di più mi piacerebbe più avanti non non chiudere più nessun video con questa con questa richiesta di sostegno per farlo bisogna arrivare a qualche a qualche centinaio di abbonati e vabbè magari ci arriveremo magari no io vi dico che già essere arrivati sino a qui è stata un'impresa un qualcosa che ma sì non mi aspettavo onestamente e vedo che un po alla volta cresciamo spero di avere la possibilità di rimanere assieme a voi e sviluppare questo lavoro vi mando un carissimo abbraccio vi ringrazio veramente per il sostegno anche di coloro che non hanno potuto contribuire economicamente ma hanno contribuito con i loro sentimenti positivi le loro parole positive il loro esserci grazie ci vediamo al prossimo video